Perchè stai ridendo? Non è possibile. Vogliono che andiamo a cercarli. Queste sono immagini di siti archeologici su tutta la terra. Antiche civiltà che non avevano alcun contatto tra di loro. Tuttavia, i pittogrammi sono tutti uguali. Mesopotamia, gli Aztechi, dipinti nelle caverne della Francia. Una mappa delle stelle? No, non è una mappa. È un invito. Prometheus è atterrato. Quanto andresti lontano per avere risposte? Fino a che punto arriveresti? Prometheus, lo stai vedendo? Oh mio Dio. Era vero. Che cos'è? Ho ricevuto un ping. Che cos'è un ping? Un click a ore nove. Si muovono? Oh no! Questa cosa... Dobbiamo andarcene! È aperto dall'interno. Ho un uomo qua giù! Ce l'ho nella giusta! Che succede là sotto? Uccidete tutto! Avete sentito? Se non lo fermate, non potremo più tornare indietro! C'è… Quell' tournament, no PC5 is free! Geli tutti i miei piersi! Io привmai tutti i miei piilli! Eu mi sono wracati una fermata! Eта azuncidzi notatante!? Tu rise quest4e partire! Traitas sempre più oppure pocket! Grazie.